E' un momento di festa, di preghiera e di canti. Noi accompagniamo il nostro campione, che è San Valentino, colui che ha vinto il mare e che per noi ha ottenuto la misericordia del Signore. Noi lo accompagniamo attraverso le vie della nostra città, verso la Chiesa Cattedrale, la sua Chiesa, quella dalla quale continuo ancora oggi a benedirci e a guidarci nel cammino della nostra vita. Vogliamo procedere cantando, pregando e riflettendo, in un clima di gioia e di festa. Possiamo procedere in pace. Andiamo, grazie a Dio. Seguiamo l'ordine stabilito, la croce, gli sportivi e i fedeli organizzati, la tuna, i religiosi, gli sportivi. Per oggi il Vescovo, l'urna e tutto il popolo di Dio. Acclamiamo a San Valentino. Grazie. 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 Grazie.